Alessandro Ricci è il preparatore dei portieri della scuola calcio del Vivi Alto Tevere San Sepolcro. Noi non a caso, Alessandro, siamo di fronte ad una porta. Voglio sapere come ti trovi con questi ragazzi e quali gruppi, quali annate alleni. Allora, io seguo le annate che vanno dal 2012, c'è un portierino del 2012 che è il più piccolo, e arrivo fino ai 2006 che sono praticamente l'ultima annata della scuola calcio che fa le esordienti. Quindi sono cinque annate, sei annate. E niente, è divertente, è stimolante perché comunque si esce un po' da quello che è l'allenare il portiere già formato. Cioè se alleni un portiere già formato tu lo devi allenare per la forma fisica, per andare in campo a domenica. Qui invece c'è da costruire, c'è da insegnargli le basi, diciamo, da non aver paura di andare in terra, a giocare, giocarci su questa cosa, cioè togliersi la paura, togliersi tutto quello che può condizionare un bambino su quello che è lo specifico del portiere. Chiaramente la prima cosa è la paura di andare in terra, cioè far capire a un bambino che si può andare in terra, non farsi male, quindi tutto quello che concerne il comportamento, il movimento, che porta poi a fare un gesto tecnico, ecco, si cerca di fare queste cose qua. E il tuo secondo anno qua a Sansepolcro, da quanto invece fai il preparatore dei portieri considerando che sei giovane? Due anni perché, ahimè, ho dovuto smettere di giocare al pallone perché ho avuto un brutto infortunio. Tanti anni di carriera non mi era mai successo niente. Alla soglia dei 40 anni ho rotto il tendine, quindi a quel punto ho detto o fatico tantissimo per tornare in campo oppure passiamo dall'altra parte. Ho iniziato ad allenare i portieri della prima squadra sul Pizia. È stato divertente. Poi dopo mi hanno proposto, visto che comunque sono babbo di un portierino qui a Sansepolcro, mi hanno detto ma perché non ci dai una mano? E da qui poi è venuto fuori questa collaborazione, è stimolante, è divertente perché poi comunque quando vedi i risultati, cioè vedere un bambino che inizia l'anno, magari può avere delle lacune, le finisce, alcune lacune sono state colmate, dà soddisfazione. Dà soddisfazione perché vedi che il lavoro che è stato fatto probabilmente è servito a qualcosa. Hai anticipato la tua carriera da portiere che è stata una bella carriera, ripercorriamola velocemente. Io ho iniziato qui, ho fatto tutta la trafila qui a Sansepolcro. Poi ho fatto praticamente i primi anni di Serie D qui a Sansepolcro, quindi dal primo anno di Serie D all'età di 16 anni, Borsi, mi ha voluto portare in prima squadra, non tanto per la prima squadra quanto perché era l'unico preparatore che c'era in quel momento a Sansepolcro. e ha voluto assolutamente seguirmi perché avevo delle doti fisiche, essendo quasi due metri, insomma, credeva di lavorarci. Poi da lì ho iniziato a continuare con la prima squadra, sono arrivato fino a 24 anni qui a Sansepolcro, mi sono tolto qualche soddisfazione perché comunque ho avuto portieri davanti a me del calibro di Tardioli, De Min, Mosconi, insomma gente che mi ha insegnato tanto. E poi dopo, niente, quando sono arrivato all'età di 24 anni ho detto che era ora di giocare e quindi sono venuto alla Baldaccio e andato alla Baldaccio sono stato tre anni, belli. Poi dopo la Baldaccio ho fatto due anni a Pistrino, poi sono andato alla Virtus San Giustino tre anni, dopo un anno a Selci, poi mi sono fatto male sul lavoro quindi sono stato un anno fermo, sono tornato a Pistrino e da lì poi sono tornato in promozione alle Archie due anni, poi sono andato alla Sulpizza come giocatore, sono stato un anno, sono tornato a Selci e poi sono andato a Caprese dove praticamente poi mi sono infortunato e ho chiuso la carriera, insomma diciamo così. Una bella carriera, velocemente voglio capire da te a chi ti ispiravi, se ti ispiravi a qualcuno. Come portiere io sono quarantenne, 42 anni quindi insomma sono interista, quindi sono nato nel mito del Ragno Nero, cioè il grande Walter Zenga quando ero bambino era una persona, cioè era un gran portiere, uno da cui uno cerca sempre di ispirarsi come magari poi è diventato Buffon perché comunque io indipendentemente dalla bandiera no, cioè non esito a dire che Buffon è stato un altro di quelli che ho seguito perché poi dopo le qualità, nel ruolo del portiere quando uno trova una persona o comunque una figura da seguire per le caratteristiche, per il modo di stare in porta, per il carattere che ha, perché comunque entrambi i portieri che ho nominato insomma caratterialmente erano persone che mettevano la faccia, cioè personalità. Forti. Perché chi è che fa il portiere poi alla fine da bambini si divertono, giocano, tirano fuori i nomi per giocare insieme, poi però quando si è grandi il portiere è quello che ha più personalità di tutti perché dietro di noi c'è la rete, quindi se uno sbaglia devi avere il carattere di rialzarsi subito e di voltare pagina. Per concludere questa intervista hai nominato ovviamente in anteprima quelle che sono le qualità fisiche, poi comunque l'allenamento che serve ma il carattere, la personalità, la sicurezza in un ruolo particolare come il portiere la possiamo definire una delle doti più importanti che si possono anche migliorare. Sì, indubbiamente sì, è chiaro che vanno costruite, noi qui a Sansepolcro diciamo che dal punto di vista del carattere cerchiamo di aiutarli i ragazzi perché si può sbagliare, anzi si deve sbagliare perché se non si sbaglia poi non si impara. Io ho imparato tanto in questi due anni dagli allenatori, per dire anche quegli esordienti che li seguo quando giocano, da Diego Fabri, cioè la mentalità di venire al campo e sapere che non si viene messi in croce se uno prende un gol ma il sapere che si può sbagliare perché poi alla fine se io sbaglio sono in grado di capire dove ho sbagliato e dove posso migliorare. Diciamo un diktat qui a Sansepolcro, cioè noi si lavora per farli crescere nel miglior modo possibile. È chiaro che un bambino che parte timido poi alla lunga se acquisisce quelle sicurezze, quella timidezza poi se la toglie.